Per il quarto anno di seguito, fino al prossimo 23 ottobre, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco, partecipano all'iniziativa internazionale Europe Code Week, migliaia di venti in ogni parte d'Europa per offrire ai giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare la settimana europea della programmazione, promossa dall'Unione Europea, all'obiettivo di favorire un'appropriata educazione al pensiero computazionale. È essenziale che le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo. Saranno in 700 circa gli alunni della scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado dei treplessi, Centrale, Salonico e Giovanni XXIII, che aderiranno alla manifestazione. La sfida consiste nell'organizzare all'interno della scuola molteplici eventi di programmazione che coinvolgano il maggior numero possibile di studenti durante Code Week 2016. Si tratta di fare programmare a loro una piccola parte di un videogioco, di un percorso, allo scopo di sviluppare loro il pensiero computazionale, cioè il ragazzo giocando e programmando un giochino, un qualcosa che è piacevole per lui, sviluppa la capacità di sapere risolvere problemi, sviluppa moltissimo la logica e quindi si rivela un'attività didatticamente molto rilevante che sviluppa una competenza trasversale per tutte le discipline. Parteciperanno anche i bambini della scuola elementare, i nostri alunni della scuola elementare, ma anche i bambini di quinta che sono disponibili a fare questo percorso con noi. Noi li abbiamo invitati e frequentano settimanalmente delle lezioni, chiamiamole così, di coding, anche se poi si rivelano essere delle attività belle e coinvolgenti. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Quasimodo aderisce alla Europe Code Week, cioè la settimana internazionale della programmazione, con un evento dal titolo Coding for All, che prevede la partecipazione di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e degli alunni delle classi terminali della scuola primaria ad un'attività di coding della durata di un'ora e che si svolgerà questa settimana, quindi da oggi, da lunedì fino al venerdì 21. Come abbiamo potuto realizzare questo? Perché non è una cosa semplice, attraverso la formazione degli insegnanti. Abbiamo un team di circa 15 insegnanti che è stato formato dalla nostra referente, dalla professoressa Mariangelo Curatelo, è stata appunto formata e che quindi è in grado di poter insegnare coding a tutti gli alunni della scuola media.